In una trasmissione radiofonica il sottosegretario Carlo Sibilia ha fatto outing a modo suo da studente alle superiori ho fumato le canne. Ha anche spiegato bontà sua che la cannabis deve essere vista come una pianta che ha un principio attivo e che aiuta anche nelle malattie. Se ne potrebbe parlare non solo per scopi curativi ma anche per fini ludici. Per completezza di informazione Sibilia dice che poi ha smesso qualcuno sui social ne dubita perché ha preso a seguire altri interessi. La politica a tempo pieno corretta dai social in politica a tempo perso e il basket nel tempo libero. Gli scopi curativi della cannabis sono noti nelle terapie antidolore e nelle cure palliative. Sono i fini ludici che Sibilia pesca dalla sua gioventù a preoccupare. Il fine ludico è un'attività giocosa per lo più, come dice la Treccani, svincolata da regole per dare libero sfogo alla fantasia. Dando per scontato e per certo che Sibilia ha smesso da tempo di farsi le canne, quella esperienza deve averlo molto caratterizzato e formato, se negli ultimi anni ha mantenuto, diciamo così, il tratto di spensieratezza che parecchio lo distingue nel panorama politico. Sorprende però che Sibilia alle canne legalizzate attribuisce poteri sanifici, come non sostengono una parte consistente e autorevoli di medici, ricercatori e scienziati, ma considera invece i vaccini un obbligo imposto dalle multinazionali del farmaco e da chi solo Dio sa. Di quelle promesse fatte nell'intervista a Sibilia stia attento a non mantenere quella di convincere delle sue tesi il suo diretto superiore, Matteo Salvini, il suo ministro dell'interno, è già abbastanza gravemente giocoso e spensierato di suo. Con i fini ludici delle canne ministeriali andiamo a chiudere la settimana di studio sera, lo facciamo con Arturo Iannaccone, già assessore ai fondi europei della Giunta Foti, Giovanni Savignano, grande divulgatore scientifico e dirigente medico al Moscati di Avellino, due consiglieri comunali uscenti, Gianluca Festa, davvero, Lazzaro Iandolo di Forza Italia, con loro parleremo di questa fuga dai partiti che si annuncia per le prossime elezioni amministrative al Comune di Avellino, fuga dai partiti che significa prendere le distanze e tenere un po' nascosto il simbolo di partito di provenienza, una sorta di civismo che attizzi di più sul mercato elettorale. Giovanni Savignano, ma che sono questi fini ludici della cannabis? Rende spensierati e giocosi? Beh, diciamo che come hai detto anche durante il servizio e il tuo commento, oggi è il mondo scientifico che si sta interessando a questa sostanza proprio perché si è visto che ha degli effetti benefici su molte patologie, addirittura può sostituire i farmaci, le psicofarmaci, in certi pazienti. Per quanto riguarda il fatto ludico, noi pochi mesi fa abbiamo festeggiato i 50 anni del 68 e ci ricordiamo tutti storicamente che in quel periodo, durante le occupazioni, durante le feste, durante le marce, durante le proteste, c'erano alcuni che si avvicinavano a questa sostanza ritenuta, quella leggera, si fumava erba. Il comune di Amsterdam addirittura fece una delibera dove era libero. Fa bene o fa male? Perché il mondo accademico, scientifico dei ricercatori non ha un parere unale. Meno male, perché il mondo scientifico deve avere più pareri ed è giusto che sia così. Però alla luce della statistica, della letteratura medica, si è visto che ha certi dosaggi controllati, perché si parla, la cannabis libera significa una cosa, la cannabis controllata dal punto di vista medico è un altro aspetto. Il fatto ludico è perché queste sostanze, come chi si fuma una sigaretta normale, chi va a giocare, chi si beve una birra, magari provo un piacere. Quindi il piacere del gioco con questa sostanza a certi livelli può, è come tutte le cose, l'eccesso fa male. Con Giovanni Savignano parleremo un po' di questo problema e queste proteste, delle guardie mediche, la cosiddetta continuità assistenziale, ma intanto visto che ha fatto outing, sia pure ripescando tra i suoi ricordi giovanili sottosegretari, canne? Come stiamo messi a canne qui? Lazzaro mai canne, festa, uno sportivo, non ha mai fumato, neanche per un fatto scientifico Savignano, niente, mai canne. Io ho visto alcuni amici, però si sentivano male, quindi ho capito, Arturo, Iannacone, mai, mai, beh, l'outing lo faccio io, ho fumato una canna da ragazzo sotto i fuchi pirotecnici di Montefalciore. Se ne avvertono ancora però, è come dicono a Sibilia, probabilmente vale lo stesso per me. Da dove partiamo? Partiamo da Arturo Iannacone, perché in questi giorni, martedì, ci sarà la firma della delega alla città di Avellino per l'attuazione del programma Città Sostenibile, una cosa molto importante che la Giunta Foti portò alla votazione, lo fece approvare dal Consiglio Comunale e l'ultimo Consiglio Comunale della Consigliatura. Per quello che può interessare, però ci leviamo il problema davanti e poi parliamo di altre cose che attengono ai fondi europei. Ieri gli assessori della Giunta Ciampi in un comunicato dicono che questi erano soldi persi, meno male che siamo arrivati noi e che erano soldi persi in che senso? E poi in che senso erano solo un po' diciamo così, carte generiche che erano stati approvati? Sarebbero stati soldi persi se chi è stato in carica subito dopo le elezioni non avesse semplicemente fatto un'opera di continuità burocratico-amministrativa. Non è stato messo in essere, non è stato attuato dalla Giunta Ciampi nessuna decisione, nessuna scelta di carattere politico e anche di natura programmatoria. La Giunta Foti attraverso una manifestazione di interesse ha ascoltato la città, i soggetti vitali, il volontariato, associazioni sindacali, mondo dell'impresa, scuola, insomma singoli cittadini. Attraverso questa consultazione è stata elaborata una proposta ed è venuto fuori un documento programmatico, il cosiddetto documento di orientamento strategico con annessi interventi coerenti con questo documento di programmazione per complessivi 18 milioni di euro. E qui parleremo più avanti nel dettaglio. Certo, allora chi dice altro dice cose non vere. La Giunta Ciampi poteva fare una sola cosa e avrebbe fatto perdere 18 milioni di euro, portare in Consiglio Comunale quella decisione e revocarla. Siccome questo non è stato fatto io do atto alla Giunta Ciampi di aver operato in continuità amministrativa. Però non è che hanno deciso si restaura la dogana e non si fa un'altra cosa. Non sbaglio questi importanti interventi perché insieme anche agli interventi di housing sociale che a cui ha messo mano il commissario prefettizio si tratta se non sbaglio di altri 8-9 milioni di euro. Insomma sono tasselli che si inseriscono in qualche modo insomma nella qualche modernizzazione, riattualizzazione dell'urbanistica ad Avellino, quantomeno in termini di recupero e di rilancio. Gianluca Festa si candida a sindaco. È una domanda senza punto interrogativo, è una domanda col punto. A lei il commento. Ci stiamo lavorando, non da poco tempo tra l'altro, in realtà sarebbe già dovuto accadere lo scorso maggio per questioni di coalizione. Allora in pratica rispetto a un progetto, una proposta, fui di fatto lasciato solo e anzi qualcuno voleva attribuirmi l'eventuale responsabilità di una sconfitta. Consenso di responsabilità e anche di appartenenza a una realtà. Decidemmo tutti insieme con il mio gruppo di fare un passo indietro. Ci siamo presentati, avevamo già previsto come sarebbe finita e così è stato. Quindi per evitare gli errori del passato stavolta realizzeremo un progetto in discontinuità con l'esperienza pizza di fatto. E contro il PD, con il PD, insieme a chi altro? Ma guardi, basterebbe ricordare il mio percorso elettorale. Io non mi sono mai candidato al comune di Avellino con il PD. Io sono in perfetta coerenza e continuità con le mie... Lei fa un po' come certi avvocati quando dicono qui siamo a cavallo e qui... Le voglio sviluppare meglio il discorso. Io sono coerentissimo. Io ho sempre pensato e agito in tal senso che da un lato ci fosse la voglia, la passione verso la politica e quindi l'appartenenza a un partito. Per ciò che concerne le amministrative, io ho sempre pensato, ripeto, agito in coerenza con questo mio pensiero, che all'interno delle elezioni comunali fosse preferibile e opportuno presentarsi con aggregazioni che non fossero rappresentate da simboli. Perché sono sempre stato del convincimento che la gente debba votare la persona di cui si fida sulla scorta di un progetto convincente per la città. In continuità con questa mia azione proseguiremo... Lazzaro, Lazzaro e Andolo, ma è proprio così. La gente si fida di più. Insomma, è abbastanza difficile distinguere e discernere perché, insomma, Forza Italia che sta promuovendo uno strumento, un luogo per affrontare le amministrative che non porta le insegne di Forza Italia, però poi in fondo Lazzaro e Andolo, penso a Ines Fruncillo, lo stesso... Non si può dire che non siete di Forza Italia. Qual è, diciamo così, l'accredito maggiore agli occhi degli elettori che deriverebbe da questo? Dal tenere, non dico nascosto, ma al tenere su un altro piano il simbolo del partito? Allora, semplicemente si tratta di un'apertura alla città, non alle altre liste, cioè prima alla città e ai cittadini. Cosa si vuole dire? Come lei ha ben detto, io rivendico la mia appartenenza al partito, oramai è storica la mia appartenenza al partito e ne sono fiero di appartenerci. Poi c'è stata l'idea lanciata da Tajani, quella di aprire alle forze civiche presenti in campo e quelle di aprire le porte a tutti quelli di Forza Italia, chiamandola l'altra Italia, a tutti quelli che non erano d'accordo con la gestione giallo-verde della nazione. Ebbene, noi allo stesso tempo, con l'altra vellino, cerchiamo di aprire le porte a tutti quelli che non sono d'accordo con le passate amministrazioni, della quale non abbiamo mai fatto parte, quindi ci poniamo a ragionare con tutti, prima i cittadini e poi non chiudiamo alle altre forze. Ecco, Arturo che è stato anche un parlamentare della Repubblica e anche un osservatore, analista attento, autorevole e anche indipendente. Questa cosa tra partito, comunità politica e civismo, quali sono i rischi pro e contro? In questa fase in cui, diciamo, da un lato c'è la crisi della politica e conseguentemente dei partiti e dall'altro lato c'è l'esigenza di un forte governo cittadino, perché è evidente che le comunità devono essere amministrate bene, forse aprire, come diceva Lazzaro Iandolo, l'amministrazione, ma lo diceva anche Festa, ad una dimensione civica che non significa togliere le insegne ad ognuno, stiamo attenti perché siamo tutti soggetti politici, abbiamo avuto le nostre esperienze, le abbiamo e le avremo, ma ci vuole uno spirito civico, cioè uno spirito che consenta a chi sarà eletto, a chi sarà votato, di andare ad amministrare, e svincolato dalle logiche dei partiti e degli schieramenti. Faccio un esempio, l'ultimo. Forse Ciampi, se non avesse avuto il fiato sul collo del suo leader di movimento, avrebbe probabilmente tentato di fare un'aggiunta del Consiglio più conciliante, diciamo così, più realistico. Io se fossi stato eletto sindaco, avrei tentato di aprire ai gruppi consigliari, non doveva fare gli interpartitici, avrebbe dovuto chiamare, secondo me, i capigruppo e dire, guardate, questo è il dato, io ritengo che la città va amministrata, dal suo movimento è venuto chiaramente un veto, c'è stato indictato all'incontrato, e quindi io penso che non dobbiamo fare questo tipo di esperienza, se tentiamo un'apertura reale, i cittadini che sono giustamente interessati alle vicende amministrative, contestando, criticando, assecondando, diano una mano. Giovanni Savignano, lo so, non è un politico, però vorrebbe dire la sua, questo o no. Su che cosa? Su questo, no? Sul civismo. Perché poi, insomma, si dà anche l'idea che il partito viene utilizzato un po' come il taxi, a seconda delle esigenze, oggi mi serve il partito e utilizziamo il partito, oggi mi serve un'altra cosa, insomma, dà l'idea di una sorta di marketing politico-elettorale, questa cosa, quando non è spiegata bene, naturalmente. Non c'è dubbio che la crisi degli ultimi anni ha determinato alcune distorsioni, anche di incomunicabilità, di alcune ideologie storiche, però io credo che il concetto di società civile sia diventato un luogo comune, o quando meno corre il rischio di diventare luogo comune, laddove noi sappiamo che la stessa società civile, il rapporto alla situazione, diciamo, anomala di certe gestioni pubbliche e amministrative in Italia, anche nel cosiddetto parastato, tra virgolette, ha determinato molti danni. Allora a volte se la società civile non si riconosce più nell'interlocutore che gli gira attorno, cerca di trovare il suo spazio, però, al di là di questo, un ente comune come questo, ad esempio, Capoluogo, non può vivere non tenendo conto di chi amministra una regione e il governo nazionale, cioè c'è sempre stato un filo conduttore, quindi un orientamento. Avere delle radici politiche storiche non è che sia negativo in questa fase, perché anche il cittadino vorrebbe un orientamento, quindi è giusto che si crei aggregazioni civili e sociali, soprattutto di persone che vogliono impegnarsi a vendere il loro tempo. Ma che abbia dei riferimenti, che abbia dei riferimenti, anche nel posto ideologico, che la facciano anche identificare. E' certo. Non so se è un rischio, ma insomma potremmo assistere ad una campagna elettorale che vede da una parte chi dice che stava per cambiare il mondo e questa cosa gli è stata impedita di farla, dall'altra chi prova a offrire una immagine, una versione, una visione del cambiamento aggrappandosi diciamo così appunto alla società civile, al civismo eccetera eccetera. Ma insomma da questo punto di vista i cittadini si aspettano che succede in termini di soluzione dei problemi e credo che la credibilità derivi in primo luogo dalla capacità di sintonizzarsi non solo con la comunità, ma sintonizzarsi con i problemi e su come risolverli. Io credo che la differenza la farà proprio la comunità nella prossima campagna elettorale. Ritengo che al di là delle sigle che non mi pare rappresentino più il riferimento per l'elettorato, i due elementi che faranno la differenza saranno una proposta progettuale per la città, una visione, oserei dire, e chi avanzerà questa proposta a questo progetto anche con le soluzioni. Noi spesso abbiamo assistito al libro dei sogni, anche a ragionamenti da voli pindarici. Io credo che la differenza la farà proporre alla città soluzioni che dal giorno successivo alla elezione del sindaco siano realmente attuabili e finalmente entrare nel cuore dei problemi. Spesso la politica, e questo è un po' il limite che io vedo nei partiti, la politica in questi ultimi tempi si è allontanata dalla vita reale. Noi abbiamo assistito a un distacco tra elettorato e politica che poi si è trasformato nel famoso voto di protesta. Per quanto concerne invece le elezioni amministrative, io ritengo che coloro i quali si proporranno alla guida della città, ma anche coloro i quali vorranno candidarsi al Consiglio Comunale, dovranno rappresentare concretamente quelle che sono le istanze che provengono dal territorio forti della vita vissuta. Da Luca Festa, sia riferimento ai voli pindarici difficile farne, soprattutto in presenza di una situazione finanziaria del Comune che è quella che è. Può essere un aiuto questo Lazzaro Iandolo a recuperare realismo, concretezza, trasparenza degli impegni che si vogliono assumere. Senza un po' di dubbio. Io credo che questo sia uno spartiacque, è da qui che i cittadini, l'opinione pubblica, valuterà la qualità e la competitività delle proposte che verranno messe in campo. Senza ombra di dubbio. Mi riallaccio al discorso fatto da lei, ma pure quello fatto dall'onorivole Giannacone. Allora, il vero fallimento dell'amministrazione Ciampi è stato dettato dalla linea politica di un movimento che è più partito degli altri. Quindi il vero fallimento è stato essere troppo legati ad una sigla di partito, di movimento, e pensare poco all'interesse comune e a quello della città. Perché, come ben diceva, se avesse invece coinvolto tutti i gruppi consigliari a parlare di problemi reali per la città, forse ad oggi parleremmo d'altro. Allo stesso modo, credo che oggi bisognerà parlare, appunto come diceva Festa, delle soluzioni alle problematiche reali, soluzioni attive e reali. Non c'è bisogno di porre altri problemi o cercare i colpevoli. Ci sono i problemi, e ce ne sono tanti nella nostra cittadinanza, a partire dalle politiche sociali, fino ad arrivare ad una programmazione ed una visione, appunto, che manca dai tempi di di nunno. E quindi credo che questa visione, questa programmazione, queste soluzioni, siano il vero disegno e siano il vero campo di battaglia per quella che sarà la prossima campagna elettorale. Parliamo del programma nel dettaglio, del programma integrato città sostenibile, Arturo Iannaccone. Quando dicevamo che è un tassello, insieme ad Housing Sociale e anche ad altri, che in qualche modo si inserisce, aiuterà i prossimi amministratori, si ritroveranno con una città che sta lentamente, ma molto concretamente, in qualche modo ridisegnando se stessa, l'abbattimento dei prefabbricati pesanti a valle, la costruzione di nuovi edifici, un istituto di ricerca collegato al centro per l'autismo, il restauro della dogana, la riqualificazione dell'accesso est alla città, con interventi su Via Francesco Tedesco e Corso Umbelto, e poi altri 2 milioni di euro destinati alle attività artigianali e commerciali del centro storico. Anche questo mi pare un fatto importante, perché si è sempre detto, e non mi pare né un luogo comune né una banalità, che insomma la rinascita più complessiva, il senso di comunità più completo, Avellino lo comincerà ad avere quando decollerà e rinascerà definitivamente il centro storico. Io penso che dobbiamo registrare che c'è una condizione di crisi della città di Avellino, che prescinde dalla volontà di chi amministra. Non riusciamo a superare la fase del post terremoto, abbiamo ancora i segni, ci siamo, l'assessore Tomasone si è cimentato per riempire i cosiddetti i buchi neri, i cosiddetti i buchi neri, il project financing del Piccadone. Noi dobbiamo risollevare la città. E io mi auguro che nel rispetto delle diverse opzioni che ci saranno in campanile amministrative, e ognuno è legittimato a difendere le proprie idee, comunque ci sia un filo conduttore comune. Noi cosa abbiamo tentato di fare con il programma integrato Città Sostenibile? Spendere al meglio i fondi europei, spenderli tutti, spenderli nei tempi previsti, e destinare una somma alla crescita e allo sviluppo economico, quegli oltre 2 milioni di euro destinati alle attività artigianali e commerciali del centro storico. Nello stesso tempo, riqualificare l'accesso est di Avellino, perché via Francesco Tedesco, Corso Umberto, passare per il centro storico, quindi interventi sulla casina del Principe, interventi di restauro del Victorio Go, che è un altro edificio fondamentale. Si pensi solo alla presenza del centro di ricerca Guido Dorso, che svolge un ruolo fondamentale. Il restauro della dogana con un centro servizi per i giovani, cioè la dogana vista non come un museo, non come una biblioteca pura e semplice, ma come un centro di servizio e di servizi a favore dei giovani, dove i giovani potessero vivere quella realtà. Poi, spostandoci dall'altro lato su Valle, la riqualificazione, lì ci sono i prefabbricati pesanti più degradati della nostra realtà. Fanno pena, mi dispiace dirlo, chiaramente sono solidale con chi ci vive dentro, ma in tutta la città di Avellino, ma Valle è ancora di più. In più c'è il centro di ricerca, collegato al centro per l'autismo, che comincia a formare una piccola rete con il Crom a Mercogliano, con l'Istituto, e quindi praticamente... Fermiamoci qui e riprenderemo, non solo con le guardie mediche, ma riprenderemo Gianluca Festa e Lazzaro Iano. A questo fatto, la difficoltà economica del Comune, una serie di opere importanti che finalmente, ereditate dal dopoterremoto, vanno verso la conclusione. la realizzazione di queste opere, penso che sia un po' questo il compito principale della prossima amministrazione di Avellino. Non vedo... o no? Riprenderemo dopo la pubblicità. Ah ecco, Gianluca Festa ci sta pensando. Ve lo faremo sapere tra poco. Studio Sera con Arturo Iannacone, Giovanni Savignano, Gianluca Festa e Lazzaro Iano. Lo riprendiamo da Gianluca Festa, perché Arturo Iannacone, da ex assessore ai fondi europei della giunta Foti, ci ha ricordato nel dettaglio e ci ha ricordato anche la collocazione, diciamo così, urbanistica e politica più generale, di quelle opere contenute nel contratto della città sostenibile, 18 milioni di euro. E quindi Gianluca, opere come il tunnel, come il mercatone, il project financing che avanza, l'housing sociale che il commissario prefettizio ha sbloccato, nel senso che ha portato avanti a sua volta dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale, insomma ci sono tutta una serie di tasselli molto importanti che la prossima amministrazione dovrà tenere, come dire, ogni giorno sott'occhi per non farli diventare cespiti da consegnare ai prossimi successivi amministratori. non solo, ma mettendoci lavoro quotidiano per la realizzazione conclusiva di questa roba, ridisegni anche una città e la fai uscire finalmente dal dopo terremoto. È già tanto. È tanto, ma credo che tutta questa programmazione pergressa vada inserita in una prospettiva di sviluppo da qui a 5-10 anni, vi spiego meglio, premessa. Non credo che il Comune sia in condizioni di rispetto finanziario. Possiamo anche dire che se si candida a Sindaco, Festa si candida per 10 anni e non per 5. Al di là di chi vincerà. Ah, ecco. Avellino merita un'amministrazione che in 5-10 anni le dia una prospettiva concreta di sviluppo partendo dal quotidiano, quindi da una normalizzazione della vita quotidiana degli avellinesi della comunità, garantendo servizi, decoro urbano, pulizia, scuole sicure e poi dando nella prospettiva sviluppo anche economico l'operazione del finanziamento di attività commerciale nel centro storico è sicuramente notevole. Magari potranno essere immaginate altre operazioni di sviluppo del commercio in altre zone. si parte da un presupposto il comune per quelle che sono le mie informazioni tecnicamente non è nelle condizioni di riscesso finanziario. E questo è un tema importante direttore perché guardi che la partita più importante paradossalmente la si gioca in questi giorni il sindaco che verrà in qualche modo subirà o meno le scelte del commissario Priolo. È evidente che lo stesso commissario valuterà bene i documenti contabili che saranno proposti perché se da quelle carte non emergeranno numeri drammatici tali da imporgli il dissesto io sono convinto che questi numeri drammatici non saranno evidenziati ebbè il commissario dovrà dar vita a una operazione di pianificazione del rientro delle somme il cosiddetto predissesto quello potrà essere l'anno zero per poi immaginare la futura amministrazione all'interno del cui programma bisogna dare il conto degli interventi già finanziati perché è impossibile immaginare che chiunque dovesse andare a governare la città fossi io o altro sindaco da giugno prossimo vada e dica zeriamo quello che è stato si prende atto di quello che è stato laddove si potesse migliorare modificare la pianificazione lo si farà ma certamente tutto quello che è stato dovrà essere inserito nella famosa visione che dovrà far parte integrante dell'amministrazione rispetto appunto a queste cose noi da qui abbiamo detto un po' come augurio Arturo un po' come anche scaramanzia che in fondo è nelle difficoltà che se c'è la competenza e c'è la passione possono dalle difficoltà scaturire grandi opportunità abbiamo fatto l'esempio della Napoli avviata alla decadenza definitiva che Bassolino prende quasi per i capelli e in qualche modo per dieci anni ne costruisce un'altra immagine un altro funzionamento l'abbiamo visto con Di Nunno all'indomani insomma della prima repubblica i debiti del dopo terremoto le incompiute eccetera l'amministrazione Di Nunno invece colse quelle difficoltà e le trasformò in opportunità è questo che bisogna fare partendo dalla competenza perché poi possiamo essere civici o partiti possiamo essere vincoli o sparpagliati e beh poi ci devi saper fare questo non significa essere dei tecnici dei burocrati significa avere la competenza politica per trovare le soluzioni ai problemi Lazzaro sicuramente le competenze sono alla base ma alla base pure l'appartenenza nel senso bisogna conoscere bene la città bisogna conoscere bene l'animo dei cittadini avellinesi e portare delle scelte e da portare appunto applicare i tecnicismi a quello che è l'indole dell'avellinese a quelli che sono i modi di fare i modi di vivere dell'avellinese noi oggi ci ritroviamo con delle scelte che appunto cozzano in questo senso un corso bellissimo pedonale fantastico dove non si ha accesso alle auto è una meraviglia dal punto di vista tecnico cozzando col fatto con l'abitudine locale di arrivare fino davanti al locale presso la quale si vuole comperare qualche cosa e vediamo la metà dei negozi che sono al corso chiusi cioè non è che è stato tecnicamente sbagliata la visione bensì forse non era congeniale con quello che era lo spirito o il modo di fare abitudinario dell'avellinese questo semplicemente è un esempio per dire che ci vogliono sì le competenze ma ci vogliono dal punto di vista tecnico sono d'accordo con la scelta di una giunta tecnica di una giunta capace però sempre che segua l'indirizzo dato dal consiglio che poi verrà a formarsi solo cose Arturo fare cose per l'immediato futuro che sono funzionali ad altre cose non cose tanto per fare e poi c'è il problema della competenza che è latitante un po' da diversi anni diciamo così la competenza diciamo è una precondizione oppure la disponibilità ad essere competente nel senso di non fare scelte campate in aria o sotto l'effetto di qualche canna ne abbiamo parlato prima allora Avellino ha la necessità innanzitutto di recuperare la sua dimensione di città tranquilla perché in questi ultimi anni abbiamo effettivamente assistito diciamo ad un eccessivo imbarbarimento del dibattito politico che ha avuto ripercussioni anche sull'amministrazione e anche sui cittadini perché ha cambiato anche il senso comune dei cittadini il linguaggio dei cittadini è cambiato pari pari ci porterebbe lontano una riflessione di questo tipo però prendiamo atto se non sbaglio ne ha parlato non ricordo bene ma anche il Presidente della Repubblica nel suo intervento di fine anno quando ha detto recuperiamo una maggiore tranquillità mettiamo da parte l'astio il rancore un'amministrazione comunale ha necessità di amministratori che siano innanzitutto legati alla propria comunità quindi abbiamo bisogno è il dato fondamentale di guardare ad una ordinaria amministrazione efficiente ma soprattutto impegnarci per consentire alla città di Avellino di ritornare ad essere ma non la guida che opprime la guida che illumina l'intera dimensione provinciale non dimentichiamo che Avellino è capoluogo al di là se la provincia viene eletta direttamente o indirettamente quindi solo se riusciamo a restituire ad Avellino questa dimensione consentiremo lo dico aiandolo anche a chi svolge con mille difficoltà attività importanti attività commerciali di recuperare anche quel come dire reddito minimo per poter andare avanti facciamoci spiegare da Giovanni Savignano che cosa sta succedendo sulla continuità assistenziale cioè le guardie mediche che sono credo il punto più importante della continuità assistenziale noi troviamo dalle 8 di sera alle 8 di mattina troviamo in 42 centri della provincia di Avellino altrettante guardie mediche i medici complessivamente sono circa 200 132 medici e 70 più 70 sostituti sta succedendo che in base alla direttiva regionale che assegna un medico ogni 5.000 abitanti e un medico ogni 1.500 abitanti nelle zone considerate disagiate che sarebbero poi l'Alta Erpinia e la Baronia per quanto ci riguarda beh c'è stato un taglio di 20 unità che nei prossimi sei mesi potrebbero diventare 60 poi vi dirò che cosa dice la ASL la direttrice generale morgante ma intanto Giovanni Savignano insomma è i medici che stanno sul piede di guerra hanno fatto ricorso al TAR i medici delle guardie mediche insomma è una 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 crisi vera e propria perché capita così hanno detto che un solo medico magari deve spostarsi per andare a fare una prestazione a 20 30 chilometri di distanza non essendoci un organico appena appena all'altezza il problema qual è? se vengono meno pure le guardie mediche e pensando alla medicina territoriale che sostanzialmente non è mai partita significa che dobbiamo chiudere bottega o no? come sta la situazione? diciamo subito che diciamo alla luce degli ultimi recenti fatti di violenza contro medici soprattutto donne in attività di guardia medica notturna ridurre il personale a una sola unità imposti anche a porte che non sono molto belle insomma mette a rischio ancora di più l'operatore medico maschio o femmina che sia diciamo per un fatto di sicurezza però io vorrei dire anche per far capire ai telespettatori perché ogni cosa che sta accadendo soprattutto nella nostra regione sembra che vada a penalizzare il cittadino utente già da quando era ministro alla Lorenzin ma anche prima della Lorenzin Balduzzi allora quando Balduzzi come ministro nei suoi tagli dei posti letto disse a tutti i rappresentanti delle regioni noi risparmieremo sui posti letto e questi soldi li diamo al territorio nell'accordo stato-regione avevano trovato una linea di indirizzo sull'H24 l'H24 significava che il medico di famiglia insieme a quelli di guardia medica insieme a quelli da 118 garantiva 24 ore quindi c'era una ridistribuzione e progettando le cosiddette AFT come ha funzionato questa cosa? Aggregazioni funzionali territoriali sono una sigla AFT Aggregazioni funzionali territoriali cosa è successo? che l'allora sindacato dei merci di famiglia che è uno dei più forti sindacati italiani fece una domanda alle regioni dice allora questi soldi qua voi quando li mettete a disposizione le regioni soprattutto quello del studio indebitate chiesero ulteriori fondi al ministero quindi non è mai partito nelle regioni tra cui la nostra questa attività di H24 nel frattempo sono spariti i posti letto che servivano per investire sul territorio diciamo che qua c'è stata una riconversione in Campania magari hanno dato priorità ad alcuni posti letti se altri no però allo stato dell'arte già l'anno scorso ci fu sta polemica questi ricorsi perché noi dobbiamo dire pure ai cittadini che il direttore generale di un'azienda nominato dalla regione esegue le direttive regionali non è che il direttore il manager fa a testa propria ha avuto questo perché la regione Campania ricordiamoci purtroppo nonostante gli sforzi già al primo settembre di quest'anno aveva finito alcuni fondi per quanto riguarda l'assistenza domiciliare assistenza farmaceutica eccetera purtroppo i 10 miliardi e 400 milioni che il ministero ha dato per il 2019 non sono bastati come non sono bastati anche gli anni precedenti ora che è successo i medici di famiglia il sindacato dei medici di medicina generale ha assicurato che in questo riordino progettato programmato mettendo insieme quelli del 118 questi dell'ex guardia medica e loro si farebbero questi ambulatori territoriali garantendo però non più 24 H24 ma 16 ore quindi dalle mezzanotte di sera alle 8 del mattino il cittadino deve andare al punto soccorso ogni amare il 118 che cosa succede questo è importante perché il sindaco è anche un'autorità sanitaria voglio dire a parte noi tutti siamo utenti che una chiamata al 118 che sicuramente aumenterà nelle ore notturne non essendoci più il presidio di guardia costa in media 1.300-1.500 euro una chiamata oppure i cittadini vanno direttamente al punto soccorso che già sono intasati oggi la lista si attende ore e ore e quindi in questa fase di transizione cosiddetta la concessione dei pronto soccorsi i costi eccessivi del 118 cadono un'altra volta sui cittadini allora la regione Campania e noi dobbiamo dire che si sta preoccupando in questo periodo qua dei LEA livelli di assistenza dovrebbe capire che anche questo fattore fa parte dei LEA non soltanto le situazioni a volte teoriche Giovanni fermiamoci un attimo Arturo che è un medico la visione è un po' questa tutto sommato ma purtroppo le cose si scrivono ma non si realizzano perché come diceva il dottore Savignano ci sono sono previste le aggregazioni funzionali territoriali le UCCP che sono le unità di cure primarie complesse che sono altre diciamo strutture che dovrebbero servire a ridurre l'affluenza nel pronto soccorso purtroppo qui si continua a fare tagli di medicina del territorio nessuno ne capisce nulla glielo posso garantire perché basterebbe organizzare bene i servizi di medicina territoriale per consentire all'ospedale di dare risposte alle patologie acute al territorio di prendersi in carico le patologie croniche e fare i primi interventi per evitare che si vada al pronto soccorso io non penso direttore che la questione sia e io sono contrario ai tagli se ci sono più presidi di guardia medica meno presidi più medici o meno medici ma come si organizza e poi chiaramente se tu al medico di medicina generale gli dici devi tenere gli ambulatori io c'ero quando Balduzzi fece in Parlamento quando fece questa proposta e dici devi tenere aperto lo studio 24 ore su 24 ma poi tu devi trasferire delle risorse se non trasferisci le risorse ma il medico di medicina generale che poi deve coordinare gli specialisti ambulatoriali le guardie mediche cioè deve avere anche più mezzi cosa che non è per questo io non so se ho detto delle corbellerie quando ho detto guardie mediche i distretti sanitari che sono percepiti più come riferimenti burocratici che come sanitari ma già mettendo in regime e in sinergia con i medici di famiglia con gli studi associati per esempio già servirebbe molto da filtro per impedire gli intasamenti al pronto soccorso e a garantire al cittadino una risposta immediata convincente e qualificata perché si dice in ospedale bisogna andare solo per cose seri però se io non ho chi mi dice se ho una cosa seria se io mi procuro una distorsione e ho dolore e non so se è una frattura oppure no io me ne vado al pronto soccorso basterebbe invece un presidio intermedio gli stessi studi associati dei medici per fare una radiografia una corbelleria a professor Savignano no no non è che bisogna vedere adesso una volta detto il fatto quali sono i rischi e cosa si può fare ora io devo dire che la regione Umbria ad esempio non diciamo sempre la Emilia Romagna la Toscana la regione Umbria il problema era risolto perché non ha sicuramente questo grosso indebitamento che è la regione Campania e ha creato queste FT e CC ha creato queste strutture dove c'è la convergenza dei medici ex guardia medici nel 2018 e di famiglia anche i specialisti ambulatoriali ecco gli specialisti ambulatoriali noi ne parlavamo in un'altra semissione lui e Anna Conner l'ha fatto lo so benissimo l'ambiente qual è cioè se nei distritti ad esempio lo dico al candidato feste anche ai candidati cioè voglio ai candidati cioè i distritti avevano come legge di cui si è festeggiato i 40 anni a dicembre i poliambulatori dove c'erano gli specialisti anche io nel passato ho fatto questa attività che lavorano ad ore se queste ore la regione gli ordini professionali non le hanno incrementate lasciamo stare con le sue motivi il cittadino per fare una visita va in ospedale quindi oltre a quello che abbiamo detto delle carenze questo qua fa parte di tutto però io dico se il rischio qual è di questa vicenda diciamo voi parlate di servizi e di programmi il post ideologico io mi permetto di dire che qua la scelta è sull'economia cioè lo stato sociale di cui noi ne abbiamo soffrire in questi 40 50 anni non ce la fa oggi mi piace sto fatto sostenibile credo che un termine che è stato utilizzando molto cioè effettivamente uno fa un progetto cioè qual è la copertura finanziaria in sanità soprattutto io ho sentito il discorso dell'attuale ministro che è un medico che aveva fatto delle promesse togliamo i super ticket aumentiamo il livello di assistenza diamo più soldi alle regioni ha detto il ministro dell'economia i soldi non ci sono e quindi la cosa è stata rinviata però noi dobbiamo fare un po' di autocritica qua come gestori cittadini gestori della regione campagna e degli enti pubblici cioè noi qua nonostante gli sforzi che mi sembra che quello che si dice nei convegni noi abbiamo delle carenze di assistenza fermiamoci perché la parola autocritica spontaneamente mi porta Gianluca Festa Festa faccia un'autocritica rispetto diciamo così al suo comportamento che ha una sua linearità perché lei non gioca sotto il tavolo le cose che fa le dice e questo penso guardi però io però questo non vuol dire che penso che la gente faccia un'autocritica da due categorie la prima quella che protesta per ottenere perché ci sono molti colleghi che in realtà non vanno nel merito delle questioni ma e guardi è capitato che qualche mio ex collega abbia utilizzato alcune battaglie che poi potevano essere più o meno condivisibili ma nel merito abbia utilizzato alcune battaglie per andare a dire festa potrebbe avere ragione e quindi potrei stare con lui e non con te ma per stare con te ho bisogno di essere persuaso politicamente parlato bisogna diffidare da questa tipologia di persone l'altra tipologia da cui diffidare è quella che non dice le cose in faccia quella che pensa da questo punto di vista io non rientro per fortuna in nessuna di queste due categorie poi quello che dico quello che penso può essere anche non condivisibile santo subito no 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 ma io non dico sto affermando nessuno è perfetto non pretendo di dire sempre cose giuste e condivisibili ma le cose che dico non hanno secondi fini cioè ottenere un daccio in cambio e soprattutto sono dette bella chiara e trasparente e leale per quello che penso poi posso avere ragione o torto è la storia sono i fatti che lo diranno e la gente giudica ma nella chiarezza e trasparenza più assoluta nel quel manifesto sei per tre che credo arrivi da davvero libertà perché che voleva che quel segnale subliminale lo scopriremo solo votando ma ci ho detto lo condivido io credo che che vuol dire però sì questa città abbia bisogno di liberarsi da politiche clientelari che l'hanno oppressa negli ultimi 40-50 anni e abbia bisogno di liberarsi da padroni e padrini anche nell'ultima campagna elettorale abbiamo subito le intercessioni parlo di quelle comunali e di quelle provinciali qualcuno che chiama la sera prima e dopo mesi di discussioni di confronti detta la linea sulla testa non solo della classe politica ma della comunità che però a differenza di quanto accadeva negli anni precedenti oggi utilizza lo strumento del voto per ribellarsi e vince la comunità Lazzaro Iandolo e la Lega dice qui adesso comandiamo noi perché siamo noi che abbiamo il vento in poppa Forza Italia se ne può si può inventare quello che vuole come? sta soffiando sul fuoco insomma no no noto con piacere facciamo la cronaca cioè prendiamo gli spunti ci vengono dalla cronaca tra l'altro non come dire siamo il Lazzarone è lei davvero siamo abituati a non profetizzare leggiamo le cose che dicono gli altri e cerchiamo di capire che c'è scritto e poi facciamo le domande quindi guardi la Liga fa un ragionamento che teoricamente ci può stare però va dato atto che noi abbiamo fatto un'apertura noi dal canto nostro e facendolo tempo prima abbiamo fatto un'apertura a tutti quindi non abbiamo escluso nessuno e quindi neanche la Lega di contro torno a ripetere quello che ho detto prima bisogna guardare alle problematiche bisogna porre le soluzioni a queste problematiche bisogna vedere chi è il migliore interprete a portarli avanti e non c'è simbolo di partito mi sono spogliato io del simbolo di partito pur tenendoci si spoglino tutti ragioniamo dei problemi allearsi con chi Gialuca Festa perché sarà un po' difficile poi vorrei sentire anche il parere sempre come osservatore esterno e attento di Arturo ma come allearsi con chi perché ci sarà un garbuglio di liste di protagonisti che avranno molti punti in comune molti altri punti di divergenza sarà un po' difficile mettere insieme diciamo così guardi sarebbe difficile è difficile che un solo soggetto vinca a mani basse le prossime elezioni questo voglio dire per cui diventa necessario il fatto di trovare compagni al dual due riflessioni do per scontato che si arrivi al ballottaggio e credo sia un bene perché pur di vincere al primo turno si rischia di organizzare accozzaie che comunque non fanno bene alla città con chi si fanno alleanze io credo che tutto quanto acquaduto il 4 marzo il 24 giugno e il 31 ottobre abbia dimostrato che i vecchi schemi non ci sono più coalizioni interpartitici camminetti frizzi e lazzi questa storia è finita oggi si parte da un progetto che viene condiviso da persone al di là delle appartenenze partitiche perché chi ha la passione ribadisco ha il diritto e il dovere di svolgere l'azione politica nei partiti per coltivare quella passione chi vuole amministrare invece ha il dovere oggi di organizzare una squadra credibile competente che possa realizzare un programma convincente parola accozzaia parola risuonata a lungo nella ultima campagna elettorale non a caso credo di Avellino però Arturo Giannaccone il problema qual è? sì nessuna accozzaia al primo turno e poi al secondo turno gli apparentamenti poi quando non sono coerenti al secondo turno forse sono un po' peggio della cozzaglia o no? in genere gli apparentamenti al secondo turno ormai non ci sono più infatti anche per questo sono perdenti di accordi si fanno al primo turno al secondo turno al massimo si fanno degli apparentamenti politici questa è la storia diciamo delle ultime elezioni io parto da un dato che c'è questa forte esigenza di mettere in campo esperienze civiche come ho detto non significa che spogliare tutti della loro identità non civici nel senso di figli di nessuno ma appunto di essere capaci di esprimere una dimensione civica che per me si traduce nella capacità di dare risposte alla comunità cittadini e non avere diktat di natura politica oppure di subire vicende interne a un partito si fa un congresso cambia la maggioranza quella maggioranza poi pretende di essere maggioranza anche all'interno del consiglio comunale questo non può essere poteva funzionare prima quando i partiti erano forti e quando certe diciamo regole non scritte funzionavano oggi non è possibile quando c'era pure qualcuno che diceva ma basta e la cosa finiva lì adesso non c'è manco più che ha l'autorevolenza per dire ma basta quindi la mia idea è che mi auguro possa nascere appunto un tavolo civico attorno al quale mettere i rappresentanti coloro che si stanno organizzando per mettere in campo liste di questo tipo verificare se si converge su un programma comune e se si converge su un candidato sindaco comune questa è diciamo la mia intenzione anche con altri amici mi auguro che sarà possibile senza guardare agli schieramenti a chi ha fatto parte di questo schieramento o di quella di questo o di quell'altro schieramento chiaramente penso che sicuramente da questo tavolo ma non 5 stelle ad esempio sarebbe fuori da ogni logica che si possano sedere o chiedano di sedersi o invitino altri a sedersi attorno a un tavolo di questo tipo però penso che sia possibile fare uno schieramento ampio io mi auguro che pur andando al ballottaggio per evitare diciamo raggruppamenti troppo ampi che i candidati a sindaco siano 3 massimo 4 perché questo consentirebbe effettivamente di mettere a confronto 4 raggruppamenti sarebbe anche più semplice 4 candidati a sindaco 4 opzioni programmatiche e chiaramente evitare una dispersione temo che saranno molti di più Arturo io mi auguro che saranno molti di più in ogni caso va bene lavoreremo per una semplificazione e non è detto necessariamente che magari sono molti di più e questo sia un danno chi può dirlo insomma eh sì ma funziona così la democrazia in fondo la democrazia sottoposta al vaglio del giudizio elettorale dei cittadini Gianluca Festa allora abbiamo accertato che con chi non farebbe con chi come si diceva con chi non prenderebbe neanche un caffè nella prossima campagna elettorale guardi io sono diciamo al di là delle vicende politiche e amministrative sono un uomo di pace e di mediazione notoriamente no guardi io credo che il tema non sia questo io credo che il tema il tema non è il caffè sicuramente e non sia neanche con chi non stare la vicenda è con chi si preferisce stare si fa prima forse è meglio sì e credo che questo sia anche il vantaggio dello spogliarsi dai vincoli di partito anche perché quando si creavano le coalizioni si costruivano le coalizioni ebbè in quelle liste dei vari partiti e si poteva anche trovare qualche candidato che magari era distante anni luce dalle posizioni del sindaco in quel momento candidato quando invece si costruisce un progetto e contestualmente una squadra si ha anche la possibilità il privilegio di selezionare tra virgoletta al punto di vista politico chiaramente i componenti della squadra in modo da garantirsi in caso di vittoria cinque anni di governo del fare ci dobbiamo fermare qui il nostro tempo è completamente scaduto ma non per il professor Giovanni Savigna me la dica la cosa Giovanni telegraficamente volevo approfittare e cogliere l'occasione per quanto riguarda questi candidati e i loro progetti di tenere gli occhi beni aperti sulla sanità perché questa provincia e quella di Benevendo sono state un po' ridimensionate nella precedente campagna elettorale c'è stato un programma elettorale non dico che prefigurava l'ospedale di quartiere l'ambulatorio di quartiere se non si riesce a fare quello pubblico comunque in alcune regioni hanno sperimentato l'apporto del mondo privato nell'assistenza sanitaria dovuta alle carenze delle guardie mediche eccetera quindi avere anche questa visibilità alla luce della legge approvata sul terzo settore nel 2017 che dà la possibilità a meno che i comuni gli enti locali che sono capofile e che hanno stata importante strategica di aprire al mondo del volontariato all'impresa sociale che questo potrebbe essere un apporto alle donazioni per organizzare un pubblico privato in un momento di crisi di finanza di risorse cioè nei programmi torneremo questa formula potrà essere vincente in generale sui servizi c'è la consulenza gratuita spero del dottor Savignano i candidati se vogliono possono consultarlo a piacimento io vi ringrazio molto davvero per le cose che ci avete detto che vuole aggiungere mi ringrazio davvero mi è piaciuto ma così è casuale vabbè ma insomma capita non c'è nessuna intenzione diciamo di sottolineare almeno da parte nostra io ringrazio di aver potuto far parte con questi grossi esponenti del mondo politico e sociale lei sta facendo una cortese ruffianera è la verità a lei ne può fregare di meno Savignano grazie ad Arturo Iannacone a Giovanni Savignano che tra non molto sarà di nuovo nostro ospito perché i temi della sanità come abbiamo fatto poi d'altronde in questi anni ci hanno sempre interessato proprio perché li riteniamo fondamentali e che sono poi insomma molto vicini alle preoccupazioni e alle domande che pongono i cittadini quindi avremo modo di continuare a vederci con Giovanni Savignano ci vedremo con Gianluca Festa con Lazzaro Iannolo perché di fatto la campagna elettorale sostanzialmente è cominciata si è ancora ai blocchi di partenza ma insomma si sta si sta per lanciare lo sprint grazie quindi di nuovo grazie ai colleghi che hanno lavorato con me a questa puntata di Studio Sera Cristian Favale in studio Gianluca Cavaliere Alfonso Tarantino e in regia Silvana Piccariello riprenderemo con Studio Sera la prossima settimana a cominciare da martedì sempre su Prima TV ma il martedì andiamo in onda alle 22.30 nel frattempo buon proseguimento di serata e soprattutto buon fine settimana vi lascio al replay della copertina arrivederci in una trasmissione radiofonica il sottosegretario Carlo Sibilia ha fatto outing a modo suo da studente alle superiori o fumato le canne ha anche spiegato bontà sua che la cannabis deve essere vista come una pianta che ha un principio attivo e che aiuta anche nelle malattie se ne potrebbe parlare non solo per scopi curativi ma anche per fini ludici per completezza di informazione Sibilia dice che poi ha smesso qualcuno sui social ne dubita perché ha preso a seguire altri interessi la politica a tempo pieno corretta dai social in politica a tempo perso e il basket nel tempo libero gli scopi curativi della cannabis sono noti nelle terapie antidolore e nelle cure palliative sono i fini ludici che Sibilia pesca dalla sua gioventù a preoccupare il fine ludico è un'attività giocosa per lo più come dice la Treccani svincolata da regole per dare libero sfogo alla fantasia dando per scontato e per certo che Sibilia ha smesso da tempo di farsi le canne quella esperienza deve averlo molto caratterizzato e formato se negli ultimi anni ha mantenuto diciamo così il tratto di spensieratezza che parecchio lo distingue nel panorama politico sorprende però che Sibilia alle canne legalizzate attribuisce poteri sanifici come non sostengono la parte consistente autorevoli di medici ricercatori e scienziati ma considera invece i vaccini un obbligo imposto dalle multinazionali del farmaco e da chi solo Dio sa di quelle promesse fatte nell'intervista a Sibilia stia attento a non mantenere quella di convincere delle sue tesi il suo diretto superiore Matteo Salvini il suo ministro dell'interno è già abbastanza gravemente giocoso e spensierato di suo a 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 Grazie a tutti